Io chiedevo esattamente la posizione politica della Regione in merito alla posizione di questo impianto, anche perché la Giunta si è spaccata e sta utilizzando due metri e due misure. Ad Ascoli Piceno per lo stesso impianto l'assessore Castelli è intervenuto pesantemente chiedendo di spostare l'impianto da una località all'altra. Addirittura altri consiglieri sempre di maggioranza ad Ascoli Piceno hanno chiesto di sottoscrivere un documento per mettere in evidenza anche alcune criticità della località e lo vogliono fare anche per Vallefoglia, consiglieri di Ascoli Piceno. Da noi invece c'è il silenzio assoluto da parte della Regione, l'assessore continua a scaricare tutte le responsabilità sulla provincia, il Comune lo ribadisco purtroppo in una voce in capitolo. E quindi ci sembra assurdo che la Regione possa strigliare le ata per non aver preparato il piano e intervenire sul futuro dicendo che si impegnerà nella progettazione, ma non voglia assolutamente prendere posizione su questo biodigestore che invece è un passo importante per tutto il territorio di Vallefoglia. E vogliamo che la Regione come ha fatto ad Ascoli prenda una posizione, dica qual è la località migliore, valuti tutto il territorio provinciale, questo impianto serve, ma aspetta la Regione appunto intervenire anche su questo al fianco della provincia. Non credo che ci sia poi tutta questa fretta nel senso che è un impianto così importante, ovviamente necessario perché nessuno vuole gli inceneritori, però dobbiamo riflettere bene sulle dimensioni e sul luogo. A Vallefoglia nella zona di Talacchio non serve la variante urbanistica rispetto a tante altre località, però effettivamente serve uno studio, questo è un impianto proposto da un privato e quindi va valutato davvero ogni aspetto prima di procedere.